Il Natale più magro degli ultimi dieci anni è ormai alle spalle. Nel tentativo di recuperare le perdite alcuni commercianti torinesi hanno deciso di anticipare gli sconti rispetto al periodo dei saldi invernali che comincerà ufficialmente il 5 gennaio. Ma forse questo non basterà. Secondo il Codacons infatti solo il 40% delle famiglie potrà permettersi qualche acquisto durante i saldi, con un conseguente calo delle vendite del 30-40% rispetto allo scorso periodo di svendite. Il settore dell'abbigliamento pagherà più di altri la crisi economica e subirà un crollo del 30%. Perplessità arrivano anche dall'ADOC. I saldi seguiranno l'andamento delle vendite pre-natalizie che hanno registrato un calo del 28% nella grande distribuzione e per la prima volta anche del 6% negli outlet. Abbiamo chiesto ai negozianti di Torino un parere sugli sconti a sorpresa di fine anno. Ma noi siamo già partiti con la vendita promozionale, perché comunque tutti sanno che crisi c'è crisi e quindi siamo già partiti con la vendita promozionale. Ma sicuramente è una buona iniziativa. Io penso che sia un'ottima proposta commerciale per agevolare più che altro la clientela che è abituata soprattutto in un momento di crisi. Secondo l'ASCOM, a Torino ogni famiglia ha speso in media per Natale 300 euro, 134 in più della media nazionale registrata da Feder Consumatori. Questo primato non rassarena i commercianti in città, che aspettano con ansia la fatidica data del 5 gennaio, sperando che gli affari possano migliorare. Ma i saldi ufficiali partono dal 5 gennaio e ci auguriamo che i nostri clienti arrivino numerosi in quella data. Mi aspetto sicuramente di lavorare bene con i saldi, con degli sconti interessanti. Aspettiamo con ansia il 5 gennaio per magari dare una botta finale di un 30-40% sui nostri prodotti. Io mi auguro che con i saldi si lavori, però secondo me il problema non saranno i saldi, come il problema non è stato Natale, si è lavorato poco, adesso si aspettano i saldi. Il problema sarà più avanti, il problema sarà marzo, aprile, maggio, quando poi ci sarà la nuova stagione, il cambio di stagione, è lì che ci sono i problemi.